Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93, oggi sono qui sulla modalità zombie, nazi zombie di Call of Duty World War 2 per farvi vedere la nuova mappa che si chiama... Vabbè comunque l'isola dell'isola delle tenebre, io l'ho scritto in nome in inglese che adesso non lo sono già scordato Comunque sia, The Darkness... ah ecco, The Darkness Shore, ok Comunque sia ragazzi, andiamo a vedere questa nuova mappa zombie che ho provato ieri, vi posso garantire che è molto carina perché ha delle sfaccettature abbastanza particolari Nel senso che, a parte una cosa che si è già manifestata nel primo, come nell'ultimo Rai, come nell'isola delle tenebre, uguale, identico Nel senso che non ci sono spiegazioni nella possibilità di trovare i vari easter egg eccetera, è un po' un casino E niente ragazzi, c'è una fastidiosissima nebbia che si mette ogni tanto in ogni round, cioè in qualche round eccetera Però per il resto è molto divertente perché anche i mostri sono abbastanza fatti bene, fighi e la mappa è abbastanza complessa, divertente Comunque sia ragazzi, basta parlare, andiamo subito all'isola delle tenebre, ovviamente, raga, come possiamo inaugurare questa bellissima serie zombie Se non con gente sconosciuta, andiamo subito Eccoci raga Bello, sono andato in una parità già iniziata, complimenti al gioco, va bene Ok, come non detto Cosa vi devo dire? Ah bello, già finita Oh, tre, siamo già a tre Tre stronzi Ho andato a uno e ci siamo Eccolo One Via Allora, come ovviamente avete capito vi trovate subito in questa spiaggia In questa spiaggia sarà molto, molto semplice Uccidere questi zombie, come sappiamo Primi round, gli stronzi sono sempre fattibili da uccidere con un colpo solo di questa spranga Che utilizziamo anche per rompere i coglioni dopo Se non in multiplayer ragazzi Allora, vediamo subito se questi stronzi sono tranquilli o rompono le palle Perché io ragazzi solitamente mi trovo gente online che va a cagare, non vuole giocare bene Vabbè, comunque apriamo la porta prima Andiamo su È molto fatto bene raga, guardate i corridoi Adesso poi vedrete anche la nebbia, perché ovviamente c'è anche questa nebbia C'è fra nebbia E niente raga Adesso ovviamente questi qua guardate come giocano Adesso sono fermi, non vogliono neanche spendere un centesimo Brutti bufu C'è l'altro che... Oh bravo, andiamo su Qua c'è ovviamente già la corazza che non ci serve a nulla per ora Bam! E lui me la fote, bastardo, bravo Pezzo di merda Guacata Ciao Eh, solo il casco, bello Ma, oh Ma guarda, brutto bufu Vai Ma smettete di perdere il caschetto Ok, già carico Vediamo se c'è qualche cosa qui da trovare ragazzi Povero le nostre focche Ah no, sono delfini No, sono focche, sono focche Ecco la nebbia ragazzi Quella che non vi fa vedere i nemici Ah, scusami, non avevo preso le munizioni, raga Sì, certo Allora, avevo prese le munizioni, boh Prima che mi dica che non me le ho prese Wup No Adesso non si vedrà nulla, raga Come al solito Perché ovviamente il gioco è strano Allora, qui c'è 1500 Non c'è gli soldi Quindi andiamo dove sono i miei compagni Qui su, qui su Allora, qui Oh, che bello Questi cervelletti buoni Mmm, li possiamo friggere Sono una prelibatezza Ciao stronzoni Allora Ah, devo pagare io Ah no, voi, bravi Alleluia Apro io Vai Ah, nel secondo grado anche l'ultimo Il quarto, raga Bello Mi piace molto sto gioco Ok, questo è per costruire Quella sorta di arma particolare Con la serie elettrica Allora, una cosa che vi posso consigliare, ragazzi È di prendere immediatamente Un fucile da salto Un fucile da pompa Mi, che bello Devo aggiungerci la testa, ragazzi Per completare il puzzle C'è un bel Thompson Sì, questo mi piace Non ho scosse, va bene Oh, tranquillo Sembra una postazione per le armi Opla Come quella di Mittelburg Cerchiamo dei pezzi di armi Pezzi di armi Pezzi di merda C'è di tutto in questa cosa E stisola nasconde segreti Ciao brutto buffo Grazie, grazie Continua a fare 3.000 kill Acceso Pensavo che Mittelburg Mi avesse preparato a tutto Ok Qualcuno ha rimosso la testa di questo qui Con molta attenzione Bisogna trovare anche la testa Che ovviamente non sappiamo dove si trovi Cosa c'è la pistola sin automatica Che cazzo Uccide anche una mozza Non ci serve a nulla Andiamo Oh Sembra di sbattere contro qualcosa Tipo la padella di Di player no Quello là Quello gioco lì Niente Non ho abbastanza nucleare Dobbiamo trovare anche i pezzi Ragazzi Bisogna frugare benissimo nelle zone Perché ovviamente Non lo potete trovare da ogni parte Questo è già attivo Attacco elettico con ricarica Questo non serve a nulla L'ho usato la prima volta La prima volta E veramente ragazzi Non serve a un cazzo Noi troviamo qualcosa Non trovo nulla Ok Qui c'è qualcosa No Qui c'è l'arma da costruire C'è un type 100 Che mi sa ragazzi Cos'è il deustel c'è Energia del bunker C'è dietro zio Olè No zio Olè Non fa 3.000 kg Già ne ho poche di munizioni Via Questo lo voglio Il Thompson mi piace troppo ragazzi Uh Via Tranquillo Tranquillo Zombetto Bam Questo ma come sta camminando ragazzi Ma i miei compagni cosa stanno facendo Dove sono quelle Sono persone che comunque Non sanno ancora giocare la mappa Ovviamente bisognerà Dargli tempo Anche per questo Type No Questa l'altra volta Oh che cosa vuoi Cosa vuoi Brutto buffo Tranquillo Ha trovato la lama della saga Buono adesso vi faccio vedere Come si costruisce l'arma Particolare Che non serve anche Per mio parere Ma sono teschi Sono cervelli Perché sono fatti Veramente strani Scosse doppie Ovviamente Le scosse doppie Quando non c'è un cazzo Giustamente Vai Namo Bravo compagno Boom Questa è percorrere La prendiamo un'altra volta Vai Apro io Costa troppo Dai ma siete pieni di soldi Brutti buffo Aprite voi Ma che cazzo Ma avete siete proprio Dei tirchi bastardi Opla Sposo il cranio No è mio Brutto buffo Non rompere i coglioni C'è una volta Ragazzi Rimane senza caricare Boh Vabbè 1.5 Ammai che dispendo Ah ragazzi Non ho capito Dove sono gli altri due Gli altri due buffo Sono fermi Che non fanno un cazzo E mi stanno solo Facendo girare le palle Ma scusami Allora Questo è Tu sei Austria Quindi sei La troiona Che c'ha Ah c'è poco Vabbè Sono gli altri due Che hanno soldi E non trovano nulla Potrebbero servire Sì ma dove ritrova I pezzi di radio Ragazzi È questo che non capisco Loro trovano roba Ma io non so neanche dove cercare Ok È andata a 5 Ecco le mosche Bisogna schiacciarne Ragazzi Avete Dei spray E roba del genere Perché Devo ucciderle tutte Questa cosa è? Questa ricarica più rapida 300 Questa cosa mi serve? Oh ciao Moschine Ciao moschina Dov'è l'altra moschina? Ciao moschina Moschina Ciao Ciao Bellissima Oh tranquillo Però Cosa ci avete? Io non ho puto Con qualcosa Nella schiena Ok Cos'è sto fumo? Tanto passi Ma non capisco Dove cazzo Sono i miei compagni Ah sa che è messa qui Ok E uno ci siamo Ne ho trovato gli altri pezzi Delle armi Che ovviamente Non possiamo trovare Perché Perché questi qua Continuano a A non dare A non fare nulla Non mi spiegate Dove cazzo siete? Uno è qui Cioè Quei due sono insieme Non ci dicono nulla Vai vado da loro Allora In teoria dobbiamo salire Qui sopra Da qui Questa scale Eccolo Perfetto Ho visto le informazioni Di Ridu Non c'era altra scelta Nessun altro Sa come ragiona Straub Noi eravamo L'unica opzione Dopo quello che abbiamo passato Era troppo presto Per mandarci Nella tana del leone Ma vai a pagare Ti giuro ragazzi Io non trovo Questi stronzi Ma voi li vedete Dove sono? Cioè Voi li vedete E io non riesco a arrivarci Non mi dia che avete aperto All'altra parte Siete dei buffo Bastardi Oh ma che cazzo Ci fanno ancora Le moschine qui Allora Qui Cosa c'è? Il ricarica più rapida Adesso mi prendo La ricarica più rapida Poi mi vado verso Quello stronzi Oh che bello Ciao stronzi Oh via Andiamo Una A shot bitch Vediamo ci sta Ricarica rapida Che ci serviva sempre Aia Brucia Via Boom bitch Boom bitch Boom Ma chi ti ha dato il permesso di colpirmi? Scusa Non ti ha dato nessun permesso A shot bitch Via Non c'è niente Qui non c'è niente Andiamo dall'altra parte Magari hanno aperto dall'altra parte I miei compagni Qui Ok aperto Ma qui non c'è nulla Qual è questa cosa? Manico della sega Quindi fra un po' Ci ho pulito all'occhio Oh quel telo che si muove ragazzi Ancora sta nebbia Andiamo Ciao Amico Cosa è sta mimetica? Perché ha attivato a mimetica? Ok andiamo 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 Bravi ragazzi Continuate a morire Senza dirci nulla Voi siete a casino Ciao La storia da questa armonia Tanto fa veramente a cagare Vabbè qua hanno aperto Ancora Ma cosa volete? Oh Mi lasciate in pace Mi lasciate giocare in pace Boh Vorrei esplorare la sta mappa Non rompermi le palle con voi Questi proprio giocano in solitaria Non ne frega niente di noi Vabbè Raga cosa vi devo dire? Sì qua proprio sono dei buffo imperiali Ciao stronzi Non ho abbastanza energia Meglio così Perché anche così ci muoiono E poi rompono i coglioni Un po' di mano Oh Cazzo Porca troia Cosa vuoi? Brutto buffo Via Non vuole svelare i suoi segreti Segreti che potrebbero aiutarci a fuggire Ma è finito ragazzi Quel buffo bastardo Come hai fatto a beccarmi? Ma guarda Ci qua sopravvivendo Per i cazzi In loro In mezzo di noi Tutto che ti ho proprio risparmiato La cassa con me Per avermi il buff Oh Ah ok Non ho stretto normale Via Ok Boom Via Via Ma che cazzo vuoi? Brutto buffo Aspetta ragazzi Che anche voi Che vi mettete in questo punto Porca puttana Via Ok via Andiamo No Cosa troppo La sagazzo non la voglio Carichiamo Via Secondo round Ah continuiamo a provare la cassa ragazzi Che mi serve Che il buffer Che il buffer fa cagare Dai Veloce Su 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 Ma scusa Ma l'arma Complimenti Grazie 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 Grazie